La Germania è disposta ad aumentare il contributo al bilancio europeo per sostenere i paesi colpiti dalla pandemia, ma resta contraria all'idea di istituire i cosiddetti Corona Bond, una soluzione che richiederebbe tempi lunghi. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel, intervenendo davanti al Bundestag. Siamo convinti che sia giunto il momento di condividere il debito e crediamo che ci sia anche la volontà politica per farlo. I Parlamenti nazionali e anche il nostro dovrebbero accettare di modificare i trattati europei in modo da permettere un controllo democratico per la parte di bilancio nazionale che verrà trasferito a livello europeo. Ma è un percorso lento e complesso che non aiuterebbe nella situazione attuale, perché ora sono necessari strumenti rapidi e capaci di alleviare le conseguenze della crisi. La posizione di Berlino pesa sull'esito del vertice europeo di oggi, al quale la Commissione arriva con la proposta di imputare al bilancio dell'Unione il costo degli interessi dei nuovi prestiti raccolti sul mercato dagli Stati per 500 milioni di euro. Un'altra quota di interessi resterebbe a carico dei singoli paesi, ma con una prospettiva di rientro a partire dalla 2027.